buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo sempre alla piella il porto con noi questo giro io l'accendo e vuole 360 se non era quasi in cima siamo alla piella attrima l'altra parte questa è unazza di un'altra parte lasse un'altra parte a anche a aveva con un'altra parte e anche il la eccolo la stragassi così lui sempre a gas aperto e via si taglia si guadagna senti buono che questo letto qui si può di aver asciugato il terreno a forse di sale andavo la giro lo stesso la giro lo stesso non era così facile la corvette la sono messo sul piede perché scivola grazie, mi pulito l'appoggio ma è ancora torto, non ho boccato bene l'altra volta ero passato di là, mi avevo sbagliato ma comunque sono andato il zappone si, un paio di traversi un paio di traversi sono andati comunque le corvette la mia appoggio così quando ho detto non so se mi ha sentito mi ha pulito l'appoggio a un certo punto mi ha pulito l'appoggio ho provato a squadrarla come te ci ho fatto quindi piano piano anche qui si arriva ad andare come sull'isci no, ci vorrà ancora un bel po' altra risanida altro giro e altre guizze a un certo punto mi ha pulito l'appoggio mi fermo dopo il muro e questo l'ho preso un po' di guizze questo l'ho preso un po' di guizze vai Damia si si, aspettate loro bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mi ha rischiato la morte comunque io non sono contento se su questo punto qui non mi ci gioco con jolly tutte le volte dunque ragazzi il video finisce qui se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale quando vedete il video che a me farebbe comodo per crescere e che dire niente grazie alla visione e ci vediamo alla prossima ciao